buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 27 maggio 2022 il sole è sorto alle 5 e 30 questa mattina molto molto presto e tramonterà alle 20 e 39 stiamo avvicinando veramente al giorno del sostizio d'estate quando ci sarà la giornata più lunga ma ancora c'è tempo e quindi l'estate deve ancora iniziare anche se le temperature sono prettamente estive bene con questo caldo noi questa mattina iniziamo una nuova giornata con la lettura dei giornali il corriere adriatico e il resto del carlino con cronache locali ma come tutti i giorni sfogliamo il libro dei santi e oggi troviamo sant'agostino di canterbury non è ovviamente il sant'agostino di pona ma è un altro santo un santo benedettino fu a capo di una missione di 40 monaci benedettini inviati in inghilterra da papa gregorio magno quello famoso insomma quello che arrestò attila ebbene per evangelizzare i nuovi conquistatori ovvero i sassoni pagani che avevano conquistato appunto l'isola battendo i brettoni agostino e i suoi confratelli riuscirono a convertire molte molte popolazioni in inghilterra a partire anche dal re del kent sante telberto che fu poi proclamato santo pensate che nel natale del 597 in un solo giorno furono battezzati circa 10.000 persone 10.000 brettoni e sassoni per quanto riguarda le acque del tamigi insomma acque del tamigi come le acque del giordano in palestina ed ora diamo un occhiato alle previsioni del tempo ecco la cartina la cartina ci mostra come il tempo si mantiene stabile ma con un cielo spesso fuscato da nubi alte e stratificate associate a brevi piovaschi in appennino il clima si mantiene caldo le massime arrivano un pochino a un livello inferiore rispetto ai giorni scorsi c'è un po più fresco non si arriva più ai 30 gradi ma si raggiungono i 23 24 25 gradi a seconda un po della posizione del sole se il sole fuori alle nubi oppure rimane leggermente offuscato i venti ispireranno deboli da una direzione di sud est per quanto riguarda la costa da nord est per quanto riguarda l'entroterra bene ci ho detto vediamo subito le prime pagine dei giornali a partire oggi dal resto del carlino la pagina di fano ecco una bella notizia tari sconto top solo alle agenzie di viaggio lo sconto top ma non è detto che non ci siano sconti inferiori anche per le altre categorie delle aziende in modo particolare appunto da chi ha sofferto della pandemia e per il terzo anno consecutivo l'amministrazione comunale approva dei provvedimenti che decretano degli sconti sul pagamento della tassa dei rifiuti e sono le aziende appunto che beneficeranno di questo provvedimento ci sono aziende che avranno uno sconto del 10 per cento direttamente in bolletta alcune del 20 e alcune del 30 per cento e proprio a quelle del 30 per cento che sono praticamente le agenzie di viaggio le più penalizzate dalla pandemia quando le frontiere si sono chiuse quando non si poteva più viaggiare ebbene queste beneficeranno del 30 per cento e a queste che si riferisce il titolo del resto del carlino questa mattina a loro più danneggiate dal covid tocca il 30 per cento alle altre imprese il 10 o il 20 per tutto questo il comune ha stanziato 400 mila euro sono state 800 mila nel 2020 un milione e 200 mila nel 2021 e quest'anno sono 400 mila un poco più di 400 mila che sono soldi tratti direttamente dal bilancio delle comune e ieri questa notizia è stata data dal sindaco massimo seri dall'assessore alle finanze sarà cucchiarini e dall'assessore al commercio alle attività produttive etienne lucarelli un'altra notizia importante fate attenzione lo ha comunicato ieri la comandante della polizia municipale anarita montagna insieme all'assessore competente sarà cucchiarini che cosa accade accade che dal primo giugno prossimo entreranno in funzione i multavelox gli autovelox così ci hanno detto di chiamarli però insomma è la stessa cosa sia a metauriglia che a cucurano sono punti molto molto pericolosi della circolazione fanese dove sono verificati molti accidenti molti incidenti e tutti i residenti sia di metauriglia di cucurano hanno richiesto all'amministrazione comunale insistentemente dei provvedimenti per costringere proprio coloro che non rispettano i limiti di velocità a farlo per evitare che si ripetano i lutti che si sono verificati in passato dal primo giugno dunque scatta l'attività degli autovelox nel rettilineo della statale adriatica sud a metauriglia dove c'è un limite di 50 chilometri orari 5 chilometri la tolleranza per cui chi supera il 55 viene multato la stessa cosa a cucurano sulla statale flaminia quindi autista avvisato mezzo salvato poi non si venga a dire che non ci sono stati degli avvertimenti e addirittura due cartelli in ogni senso di marcia sono stati sistemati per avvertire gli automobilisti guardate qui c'è l'autovelox quindi andate piano il nostro intento ha detto la comandante montagna non è quello di fare multe ma quello di ridurre la velocità e quindi di salvare le persone però io penso che qualche multa si farà lo stesso perché poi ci sono anche gli irriducibili giriamo pagina e parliamo di politica perché i giornali questa mattina sia il corriere che il resto il carlino evidenziano il congresso della lega e c'è maretta come c'è stata a suo tempo per il partito democratico congresso le correnti spaccano la lega duello sul candidato segretario carloni e i suoi propongono brandoni ser filippi e l'onorevole paolini per il momento avevano prima richiesto la riconferma di luigi scopelliti e poi sembra che per oggi si astengono non propongano nessuno vogliono invalidare forse l'assise un punto interrogativo che pone il resto del carlino dunque la lega si spacca sul candidato segretario i carloniani presentano alessandro brandoni che è stato il responsabile della comunicazione della lega durante la segreteria di massimo mei mentre l'asse formata da lucas e filippi e lucas radolfo paolini l'uno che è consigliere regionale l'altro è un parlamentare ha rinunciato a proporre il proprio candidato certo è che le trattative per trovare una soluzione condivisa a questo punto sono a un punto fermo le trattative procedono il congresso deve ancora svilupparsi e chissà che non venga trovato un accordo qui appunto al al posto di scopelliti si fa il nome di gianluca ilari che questo momento è il capogruppo consigliare della lega oppure quello di mario alberto rinaldi anche lui di area carloniana però insomma bisognerà vedere come si modificheranno gli equilibri della lega all'interno del partito cambiamo notizia e vediamo che l'agone politico si infiamma per quanto riguarda le elezioni a sindaco in terre roveresche ebbene marcucci della lista condividiamo appunto non può non inserire il biodigestore nella campagna elettorale ebbene un no netto deciso proprio determinato per quanto riguarda la realizzazione di questo impianto nel comune terre roveresche se vinceremo ha dichiarato marcucci se vinceremo le elezioni chiederemo immediatamente la sospensione di ogni conferenza di servizi perché la provincia deve dare il giusto tempo alla nuova amministrazione di verificare le carte la lista condividiamo guidata da sauro marcucci in corsa appunto per le amministrazioni per le amministrative di terre roveresche del 12 giugno irrompe sul tema del biodigestore di barchi sostenendo che la convocazione dell'ultima riunione della conferenza di servizi per il 15 giugno prossimo è il segno che si vuole nascondere l'ok all'impianto fino a dopo le elezioni insomma è un problema da tirare fuori da dibattere anche in questo momento urbino festeggia il suo santo patrono san crescentino ebbene torna alla processione dopo cinque anni qui abbiamo una intervista all'arcivescovo giovanni tani si riprende il filo di una tradizione ha detto il prelato che ha sempre visto la festa in cattedrale un momento emozionante ebbene dopo cinque anni dall'ultima celebrazione in cattedrale e due anni dall'ultima processione con la statua del patrono il primo giugno la festa di san crescentino tornerà nelle forme tradizionali ed è una festa questa che è prettamente religiosa a urbino infatti non ci sono bancarelle fuochi d'artificio attrazioni di vario genere tutto si concentrerà nella messa e nella processione cosa che non succede quasi mai eppure la gente partecipa numerosa perché è affezionata al suo santo patrono giriamo la pagina e vediamo un efferrato episodio di cronaca minaccia tutti con il macete barricati nel locale vediamo qui un foto servizio pubblicato dal resto del calino che vediamo un energumino un giovane con una spadaccia in mano un macete che ha minacciato tutti e ha procurato anche dei danni alle auto in sosta alle moto ha rotto anche una vetrina di un ristorante pizzeria la casa dei cuochi a cannavaccio ebbene a un certo punto il gestore è stato avvisato si tratta di alessandro scotta di 43 anni è stato avvisato che all'esterno del locale c'era uno che con che insomma faceva da matti praticamente disturbava tutti e menava colpi a destra e a manca lui è uscito ha cercato di dissuaderlo di riportarlo alla calma non c'è stato verso il giovane ha reagito dandogli due cazzotti in faccia e poi è stata chiamata la polizia che è riuscita a disarmare questo giovane e far intervenire anche un'autobulanza per portarlo in psichiatria perché probabilmente gli ha dato di testa momenti di terrore a cannavaccio a causa di un 28enne di origine marrocchina che ha iniziato a fare danni fuori dal ristorante vediamo anche le pagine pesaresi del resto del carlino dove c'è una serie di eventi che animeranno l'estate del capoluogo è stato presentato ieri il cartellone eventi presentato dal vice sindaco daniele vimini ebbene ci sono tanti eventi interessanti organizzati dall'amministrazione comunale torna la festa del porto il paglio dei braceri il cater raduno e ulisse feste sono solo alcuni degli eventi ve ne leggo ve ne leggo altri e anche questi con le date in programma c'è ovviamente il roff dal 9 al 21 agosto la mostra internazionale del nuovo cinema dal 18 al 25 giugno il cater raduno 30 giugno 3 luglio ulisse feste di lonel il planet 15 17 luglio il talk show del post 17 18 19 giugno il meteo lì in concerto a ferragosto e poi altri piccoli eventi come i grandi che non sono affatto secondari perché attirano ugualmente tante tante persone piazzale d'annunzio formato bambini villa marina pronta per il luno parche guardate guardate questa bellissima immagine di questo parterre con questa pista per minimoto ebbene l'allestimento di piazzale d'annunzio nella zona di levante e sotto qui abbiamo il luna parche a villa marina sono due posti veramente qualificati della pesaro turistica ma non solo turistica perché poi anche sono punti di raduno di attrazione per i residenti a levante realizzato il tracciato per le minimoto giocattolo destinato al divertimento dei più piccoli e la gestione sarà affidata agli albergatori dobbiamo animare quell'area per bilanciarla rispetto a ponente ha detto l'assessore riccardo pozzi se si ligate esso veniamo ad un punto dolente le si ligate da tempo si parla di realizzare una rotatoria però ancora non se ne vede traccia si ligate la rotatoria che non si fa mai intitola oggi il resto del carlino ora manca l'ok della provincia ancora difficoltà burocratiche per dare inizio ai lavori massimo d'angeli e stefano mariani presidente dell'ente parco afferma che l'anas è pronta a partire con i lavori manca però l'ultimo passaggio formale dell'iter cioè un parere e fiorenzuola continua ad aspettare ebbene ancora tutto sarebbe pronto per avviare il cantiere ma c'è il colpo di coda della burocrazia una burocrazia lenta lentissima che ostacola invece di accelerare facilitare i processi esecutivi il comune purtroppo non ha soldi per un altro centro estivo e rimane senza esito alla protesta delle mamme che hanno chiesto insistentemente al comune perché si trovi una soluzione per 360 bambini esclusi dal servizio estivo e 360 bambini equivalgono a 360 famiglie i cui genitori lavorano che in estate quando non c'è la scuola si trovano in difficoltà per accudire i propri bambini pescatori in sciopero per il caro gasolio banchi vuoti e pesce locale introvabile sono gli effetti purtroppo del di quanto accade nel mondo della pesca dove il prezzo del gasolio è cresciuto tantissimo tanto da rendere non fruttabile diciamo così l'andare in mare cioè non si fa reddito perché poi le spese superano gli incassi i commercianti affermano arrivano solo pochissime casse e quel che c'è molto caro le soglie arrivano anche a 35 euro al chilo i consumatori così è impossibile fare acquisti di prodotto nostrano rimediamo con cozze e congelato una rarità il sugo ovviamente subentra quando il pesce locale difetta subentra il pesce importato quello che viene da altri mari da altre località e non si sa in quali condizioni rinforzo estivo con nove agenti nel 2021 non arrivò nessuno via quest'anno arrivano nove agenti alla questura di peso all'urbino arriveranno nove agenti in più in provincia concessi dal ministero dell'interno come rinforzo estivo esattamente prenderanno in servizio dall'11 luglio al 21 agosto prossimi considerati che ad esempio l'anno scorso non arrivato nessuno è un risultato che si può definire soddisfacente tre provengono dagli uffici altri sei sono neoassunti dove esattamente fan urbino pesaro i poliziotti saranno assegnati particolare questo non di poco conto visto che gli organici sono molto ridotti in tutti tre i commissariati la questura di pesaro i commissariati di urbino e i commissariati di fano insomma nove si dovrebbero dividere in non dico in 18 ma anche in 36 insomma purtroppo questo è quello che passa il convento ed ora diamo un'occhiata anche al corriere adriatico vediamo che la pagina di pesaro si apre con l'annuncio dell'istituzione della università del mare che domani effettuerà un festival un convegno una iniziativa all'inizio un po' semplice che però sarà incrementata e valorizzata anche nel corso dell'anno poi nel corso di tutti gli anni perché questa università costituita da appassionati del mare da ricercatori da ambientalisti vuole soprattutto attirare l'interesse di quale risorsa è su quale risorsa è appunto il mare che lambisce le nostre coste è una risorsa importante sia dal punto di vista ambientale influisce molto sul clima sia dal punto di vista economico abbiamo visto come il mondo della pesca in questo momento si è in difficoltà ma in passato e anche adesso alimenta molto della economia comprensoriale studiare e tutelare l'ambiente domani si presenta il piano Fano Ocean Action docenti universitari ricercatori ambientalisti appassionati del mare si sono riuniti per fondare Unimar l'università del mare un'associazione che persegue lo scopo di ampliare il livello di partecipazione e conoscenza nei confronti delle tematiche legate all'ambiente marino quali sono queste tematiche? biodiversità, inquinamento, erosione, sopravvivenza e comportamenti delle specie ittiche sono solo questi alcuni temi che contraddistinguono lo studio del mare e tutto questo in collaborazione con il Marina Center quel centro di studi che si sta realizzando nel laboratorio di biologia marina anzi a questo proposito dobbiamo dire che il 27 prossimo si inaugurerà l'acquario il 27 si inaugurerà l'acquario, il nuovo acquario che è stato realizzato all'interno del laboratorio una curiosità per turisti, una curiosità per studenti delle scuole e poi anche per tutti i fanesi che potranno verificare e vedere qual è la biodiversità che in questo momento popola il mare Adriatico un grande evento, quello dedicato a Ruggero Ruggeri nel nome di Pirandello è stato inaugurato ieri mattina nella Rocca Malatestiana iniziano per tutto questo fine settimana le manifestazioni sono tanti i personaggi che partecipano a questa iniziativa è stata presentata da Massimo Pugliani sono attori, sono critici, sono docenti universitari artisti, insomma persone che amano il teatro, amano la cultura e soprattutto sono legati a questo personaggio che è nato a Fano a Palazzo Bracci Pagani ebbene che cosa accade oggi alle 11 nella Pinacoteca di San Domenico ci sarà l'attribuzione del premio Ruggero Ruggeri intanto ieri pomeriggio, sempre a San Domenico i giovani interpreti hanno seguito le lezioni che sono state impartite dal grande attore Carlo Simoni un altro fanese che ha avuto tanta tanta celebrità dalla partecipazione del romanzo, del sceneggiato scusate, dei fratelli Karamazov oppure anche il Molino del Po quando c'era la tv in bianco e nero telefoni e internet fuori uso per l'incendio lungo l'Arzilla un effetto drammatico per quanto riguarda questo infortunio che si è verificato sulle sponde dell'Arzilla nei pressi del ponte dopo otto giorni il disagio non è ancora risolto i residenti sono armati per i rischi c'è incuria è una ditta specializzata ha iniziato i lavori per ripristinare la linea telefonica nella zona del ponte Mimmo al termine di via Frusaglia i cavi sono stati bruciati appunto sono stati coinvolti nell'incendio che è scoppiato giovedì della settimana scorsa nel canneto lungo il torrente e sono stati parecchi danni che hanno patito in modo particolare i residenti scontotari dal 10 al 30% alle aziende in crisi per il covid è l'articolo che riguarda appunto la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre la tassa sui rifiuti alle aziende che hanno sofferto per la pandemia e poi vediamo anche un concorso di idee a Fossombrone per il campetto di via Cairoli l'ipotesi è quella di realizzare una piazza sopra e un parcheggio interrato sotto Fossombrone non ha una piazza vera e propria ha un largo per quanto riguarda Corso Garibaldi davanti alla sua cattedrale però insomma questo slargo questo campetto di via Cairoli potrebbe supprire a delle esigenze di raduno della popolazione a Marotta si parla della sicurezza sulla bicicletta con il fratello del corridore ciclistica Scarponi si tratta di Marco Scarponi fratello del campione di ciclismo Michele conosciuto anche come l'Aquila di Filotrano che tanti italiani ha fatto sognare nelle sue imprese in salita in modo particolare nel Giro d'Italia purtroppo Michele è morto in un incidente stradale cinque anni fa nei pressi della sua Filotrano mentre si allenava in bicicletta ebbene Michele vive nelle scuole ha preso il via ieri la due giorni dell'iniziativa precedenza alla vita che l'istituto scolastico fa di Bruno di Marotta ha organizzato con Marco Scarponi il fratello poi anche la fondazione intestata appunto al corridore ciclista per sensibilizzare i giovani studenti sull'importanza delle regole e del rispetto dei limiti di velocità per quanto riguarda il codice della strada anche qui la sicurezza in primo piano a Senegaglia parcheggi ex Gil stop alla cooperativa e purtroppo sei persone svantaggiate non avranno più un lavoro infatti la gestione dal mese di giugno di questo parcheggio passa al Comune Romano del Partito Democratico dice purtroppo si apre un'altra brutta pagina e appunto queste persone disabili non avranno più un'occupazione un problema certo critico che evidenzia come la situazione delle cooperative è sempre molto molto precaria apriamo anche la pagina pesarese del Corriere Adriatico dove parliamo di eventi e qui abbiamo una lunga lista degli eventi organizzati dal Comune che ha organizzato lo leggiamo qui in questo titolo un'estate spettacolare ebbene sono tanti una vera e propria abbuffata come dice il titolo sono 12 festival e torna anche il Paglio dei Braceri che si svolgerà nel fossato della Rocca a Costanza lo slogan del cartellone è riafferrare la normalità dopo tutto quello che è stato sospeso negli anni della pandemia in vetrina un evento nazionale ogni settimana addirittura Ricci e Vimini sindaco e vicesindaco ragioniamo per allungare la stagione dopo settembre quindi non bastano i 12 festival ma se ne faranno ancora Mete Uli a Ferragosto un evento particolare diamo un'occhiata a questo calendario rapidamente 2 maggio 5 giugno io Pierpaolo Pasolini 30 giugno 3 luglio il Caterraduno il 15 agosto il concerto di Ferragosto di Mete Uli come vi avevo detto l'11 giugno Cali City 8-10 luglio Pop Sofia 9-21 agosto il ROF 17-19 giugno Tell Talk il Post 15-17 luglio Ulisse Feste 2-4 settembre Mezzanotte Bianca dei Bambini 18-25 giugno Mostra Internazionale del Nuovo Cinema 10 agosto 10 agosto candele sotto le stelle 9-18 settembre Festival International Police Awards Arts ebbene sono tante non avete soltanto alcune le iniziative che animeranno l'estate fanese e siamo ormai in conclusione rimane solo il tempo per vedere come il Carlino evidenzia un'altra notizia quella dei centri estivo purtroppo insufficienti per quanto riguarda le domande presentate dai genitori nuovi centri nido non sono fattibili fuori 110 bambini e con questa notizia chiudiamo la nostra segna stampa come sempre vi do appuntamento a domani per iniziare una nuova giornata con la lettura dei giornali e intanto vi auguro buona giornata per oggi e quindi a risentirci Grazie a tutti